Consigliere per tre minuti nella facoltà. Grazie Presidente. No, era solo per precisare alcune... Io ringrazio la consigliera Mussolini per l'intervento accorato. Ma questa maggioranza è ben consapevole, uguali non lo dico per far polemica, però lei è nuova qui, ma avrà assistito in questi ultimi vent'anni come questa città sia diventata Las Vegas per colpa delle persone che si edevano all'interno di questo Consiglio e facevano parte di quei partiti sia qui che in Parlamento hanno prodotto danni. Oggi noi accogliamo le sue indicazioni e può stare tranquilla che nella delibera che porterà il Movimento 5 Stelle ci sarà all'interno tutto quello che lei ha detto. Grazie.